L'ha ucciso il genero, il 51enne Domenico Scopelliti. Una strana fine quella di Rocco Zito, 87 anni, una delle figure principali della criminalità calabrese all'estero. Il Canada è stata la sua nuova casa sin da quando, negli anni 50, lascia Fiumara per trasferirsi a Toronto, tentando però prima l'ingresso negli Stati Uniti. Nella città canadese diventa uno dei membri del crimine locale, intrattenendo rapporti con storiche famiglie della mafia americana come Gambino di New York e mantenendo ovviamente i rapporti con la Calabria. Nel 1987 viene condannato per l'omicidio dell'usuraio Rocco Sciarrino, al quale Zito fracassa il cranio con una bottiglia di liquore Millefiori. Una carriera criminale di altissimo livello che, secondo gli inquirenti americani, si era conclusa nel 2008. La sua vita, invece, si è spenta sabato. La polizia lo ha trovato riverso sul pavimento con diverse ferite d'arma da fuoco. Ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Il genero, Domenico Scopelliti, si è costituito il giorno dopo alla polizia ed è stato incriminato con l'accusa di omicidio di primo grado. Non è ancora chiaro se, alla base del delitto, vi siano motivi familiari o più complesse dinamiche criminali. Francesco Creazzo per la CNews24